Con i capi Special Edition, Parajumpers reinterpreta le silhouette classiche del brand con nuove combinazioni di tessuti per un look più sofisticato e grintoso. Dole è una giacca imbottita in più o meno 90-10 in micro ottoman di poliestere idrorepellente, combinato con inserti di morbidissima pelle di capra su maniche e spalle. Il cappuccio, regolabile tramite culisse, è bordato in vera pelliccia staccabile e foderato in pelliccia ecologica, che dona al capo maggior calore e un look contemporaneo. Dole è caratterizzato dalla presenza di pratiche tasche, tra cui la capiente tasca a cargo sul davanti e due tasche interne retate. La giacca è chiusa da zip a doppio cursore, coperta da patta antivento con bottoni a pressione. Spacchi zippati ai lati con bottoni al fondo migliorano il comfort della giacca. L'inconfondibile fettuccia gialla al collo completa le caratteristiche fondamentali di questo capo.